Con Playmobil giochiamo alla grande fattoria degli animali, tutti in campagna! C'è tanto da fare con gli animali, si lavora soldo nei campi, il trattore porta al mercato frutta e verdura! Che divertimento in campagna con la grande fattoria degli animali Playmobil! E se ami cavalli c'è anche il maneggio dei poni! Playmobil, mondi da giocare!